Ciao, mi chiamo Alberto Maggioni, sono responsabile commerciale di un'azienda di famiglia. Devo dire che questo corso è stata un'ottima occasione di formazione, in particolare ritengo che abbia toccato tutti quegli ambiti, non solo purtamente finanziari, ma anche legati a altri aspetti organizzativi, legati anche alla psicologia, al modo in cui si deve gestire, in senso lato, il rapporto con le banche. E quindi devo concludere che è stata un'ottima esperienza. Grazie.